Oggi vorrei curiosare nella valigia di un'atleta piena di gusto, ma anche di piccole manie, Carlotta Ferlito. Per me è fondamentale avere sempre gli abbinamenti giusti, per cui ogni trasferta porto i trucchi colorati da abbinare al body. In una gara non ci sono solo gli esercizi, ma è molto importante anche il look. Carlotta, c'è qualcuno o qualcosa che non ti abbandona mai? I miei fan mi hanno regalato questa, che è diventato il mio portafortuna. Io al posto tuo mi sarei dimenticato tutto. Tranquillo Iori, non sbaglio mai una valigia. Beh, quasi mai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.